un cordiale saluto a tutti gli amici e devoti di maria oggi è mercoledì 23 aprile 2014 ci troviamo nel santuario mariano dedicato alla madonna dell'incoronata di foggia a breve la vergine santa verrà rivestita dell'abito solenne in preparazione alla sua festa nell'ultimo sabato di aprile durante la celebrazione della vestizione presiderà il rettore del santuario con la celebrazione delle lodi e poi il rito della vestizione don felice bruno durante la celebrazione della santa eucarestia presieduta dal vescovo della cidiocesi di foggia bovino monsignor francesco pio tamburrino la vergine dell'incoronata verrà rivestita delle preziose corone a tutti voi buon ascolto e buona preghiera 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.